ciao a tutti amici di vespe motore oggi cari amici volevo presentarvi una cosa un po curiosa restauro ultimato devo provare in strada questo motore per ultimare la carburazione e volevo farvi vedere l'ho soprannominato il serbatoietto da carburazione per chi fosse interessato rigorosamente fatto in casa materiale di recupero un serbatoietto da taglia erba staffato con un bullone molto pratico vado a provare in strada ritorno posso togliere il carburatore rimontarlo senza lo sbattimento tutte le volte di smontare in continuazione il serbatoio eccetera facile da togliere un bullone un aggancio rapido un attacco rapido vedete quindi lo rimontiamo molto velocemente e siamo pronti ad effettuare i test in strada per la carburazione con questo è tutto ciao alla prossima